Si vota dal 15 settembre al 23 settembre, presso la sede dell'ordine. Purtroppo non ci sono altre sedi, ma è questa qua l'unica a Piazzetta Serra a Napoli. A breve gli architetti saranno chiamati al voto per il rinnovo dell'ordine professionale. Il giulianese Giuseppe D'Ausilio è candidato nella lista Architettura e Partecipazione. Perché il nostro territorio vasto del comune di Giuliano da sempre non ha mai avuto un candidato in una lista che abbracciasse tutto il territorio dell'area nord-nord-ovest. Architettura e partecipazione mutua la cultura dell'incontro tra iscritti e istituzione. È importante che ci sia comunque il dialogo con tutti. Nel nostro programma abbiamo individuato alcuni punti, tra cui quello del dialogo. Il dialogo relativamente al dialogo con tutti gli architetti, con tutti gli enti, con i comuni. Di centrare l'ordine, quale casa di tutti gli architetti. In modo tale di essere punto aggregativo e mettere a disposizione le nostre esperienze, almeno per quanto mi riguarda, questi miei 30 anni di esperienza professionale nell'ambito sia pubblico che privato, per tutti. In modo tale anche per le nuove generazioni, cose che comunque sul territorio di solito faccio.